Hey la poche fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo video di reazione. Oggi è stato annunciato un nuovo Pokémon per sole e luna dal nome Salandit, o Salandit la pronuncia ovviamente ancora non si conosce, e sui vari canali Pokémon ufficiali delle varie lingue sono usciti i video trailer. Video trailer che dura 55 secondi, lo sto guardando sul canale ufficiale italiano, giustamente, quindi un trailer più ridotto, ovviamente per un solo Pokémon va bene. Tra l'altro un annuncio molto più ridotto rispetto all'ultimo, con ben 7 nuovi Pokémon più le funzioni, ma ogni tanto rallentano con il rilascio di informazioni nuovi Pokémon e fanno bene. Adesso mi è stato passato il link di questo video, quindi ho evitato gli spoiler, non so assolutamente come sia fatto questo Pokémon e lo vedrò per la prima volta adesso. Vi lascio il link del trailer qui sotto in descrizione, nel caso non l'abbiate ancora visto, correte subito a cliccare a vederlo e non vi metto il video trailer qui nel mio stesso video, perché alcuni me lo chiedono, alcuni nuovi rispondo adesso per l'ennesima volta, non posso perché altrimenti mi beccherei un reclamo o per contenuti di terze parti o per qualsiasi altro motivo. Ci avevo provato una volta e ho avuto le terze parti, non voglio rischiare. Quindi guardiamo questo video e andiamo a scoprire Salandit o Salandit. Ok, Pokémon Sole e Lune, è apparso un nuovo Pokémon velenoso! Sarà il serpente che avevo detto io qualche parte fa? Non lo è! È una sottospecie di coccodrillo, salamandra, qualcosa, veleno fuoco, con abilità corrosione, una nuova abilità ed è bellissimo come Pokémon! Può avvelenare Pokémon di qualsiasi tipo! Ha avvelenato uno Zubat! E tra l'altro hanno cambiato la grafica dell'avvelenamento, adesso non compare più tipo sotto con l'iconcina bell, ma appare avvelenato che lampeggia nella zona dove c'è il livello del Pokémon. E può avvelenare veramente i Pokémon di qualsiasi tipo, perché ha appena avvelenato uno Scarmory! Scarmory che tra l'altro è di tipo acciaio, quindi è immune, può avvelenare chiunque, è un'abilità fantastica! È un'abilità fantastica! E il Pokémon è molto molto bello! Salandit, quindi dovrebbe essere salamandra e bandito, credo, dato che tutto nero ha l'aspetto un po' furbo, con quegli occhi, quello sguardo, credo sia la fusione tra salamandra, salamander e bandit, bandito. Bello! Il Pokémon è bello e l'abilità è molto innovativa! Sto vedendo nell'ultimo periodo con i nuovi Pokémon annunciati che stanno davvero cercando di metterci dentro, a sole e luna, delle cose nuove, delle cose innovative. E stanno facendo un ottimo lavoro! Quindi, ci fermiamo qui con il video di reazione, ovviamente aspetto delle novità, aspetto che aggiornino il sito ufficiale con le informazioni su Salandit, per fare un ipotatico episodio di Aspettando Sole e Luna. Il video, quindi, finisce qui. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, ricordatevi, come al solito, di lasciare un bel mi piace a questo video per supportare la serie delle reazioni, e ditemi qui sotto con un commento se vi piace il nuovo Pokémon. E anche se non vi piace, perché potrebbe anche non piacervi, ma se non vi piace, ditemi il perché. E cosa ne pensate soprattutto della nuova abilità che può avvelenare chiunque? Io penso che sia molto innovativa, ma questo l'ho già detto, adesso attendo le vostre opinioni. Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye, bye!